Buona visione! 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 No, 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 no. Ehi, dico! Benvenuto alla rosa in fiore, straniero. Salve. Ti dispiacerebbe chiamarmi la proprietaria? Madonna Solari non è in casa. Sai dove si trovi? Ah! Aiuto! Aiuto! Madonna Solari! Lucia! Pensavamo che te ne fossi andata. Ci hanno fatto salire su una barca! A me mi ha lasciata libera, ma lei... Chi vi ha fatto salire a bordo? Mercanti di schiavi, messere! Vicino all'isola Tiberina! Vogliono soldi in cambio della sua vita! Ve la riporterò qui. Se pensi di risolverla così... Qualcuno mi ha derubato! Guardie! ベ la sua mamma! Il prezzo del grano è raddoppiato. Se vuoi andartene molto. Sono modi piacevoli. Sarà permesso? Avete qualche ragione per comporare? D'andarro a modo di andare. Pagali, cagli! 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 sei qui per la puttana aiutatemi ho i tuoi soldi lasciala andare no prenditela con cesare ii 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 e ii 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 non sono modi piacevoli ma pelle No. 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 Ma come può un uomo fare queste cose? Ma certo! Grazie a tutti 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 Grazie a tutti